bentornati tifosi nero azzurri seconda puntata di mondo inter lo sapete non sono da sola come la voce storica dell'inter l'enciclopedia dei ricordi nero azzurri roberto scarpini ciao un bigino perché bisogna fare sintesi perché sono talmente tante cose da raccontare che bisogna l'enciclopedia è una roba che la metti la nel mobile non la guarda una cosa un po' old school che tettini sul comodino ogni tanto una pillola così a wiki robbie allora qui ti piace di più più al passo con i tempi e ovviamente con noi anche il mitico walter zenga ciao walter come stai buongiorno bene grazie e direi che scarpini più che un'enciclopedia è la tre cani del calcio quando ero giovane c'era un'enciclopedia che si chiamava il calcio ed era praticamente volumi di dai mondiali del 38 fino a credo che arrivasse fino al 70 una roba del genere che scarpini dovrebbe scrivere e fare un'enciclopedia del calcio tu pensa che io a casa ho tre cani quindi se qualcosa che che fa scopa è qualcosa che torna qualcosa che ci state ascoltando sa che lo chiamano walter lui la è walter perché è internazional abbiamo iniziato da 30 secondi e già hanno iniziato a puntualizzare a fare le battutine si salvi chi può da questa puntata è un compito sempre due anziani insieme ma no non vi buttate giù voi siete giovani dentro la somma dei miei anni dei suoi anni è esattamente quattro volte la tua età beh roby se non sbaglio la tua pelle la tua prima telecronica telecronica l'hai fatta nell'anno in cui sono nata nel 92 giusto visto l'anno del dream team il programma si chiama mondo inter quindi dobbiamo parlare della nostra inter e partiamo dal pareggio in casa nella ventinovesima giornata contro il napoli chiedo a voi un inter che soprattutto nel primo tempo ha creato ha avuto delle occasioni poi è arrivato il pareggio l'avete vista un po stanca sia fisicamente che che mentalmente è stata un po questa la causa o che cosa è mancato per raggiungere la vittoria ha mancato quel pizzico di buona suerte che hai avuto in tante altre occasioni dove che fa un po scopa con quello che è successo a madrid con l'atletico cioè è un inter che ha fatto esattamente quello che fa sempre lo ha fatto bene è mancata nel colpetto finale è mancata nel colpetto finale cosa che altre volte magari è accaduto meno la distrazione ci sta la paghi perché in champions così come in serie a se lasci un uomo a un metro dalla porta è più facile che faccia gol piuttosto che la butti fuori però altre volte magari era riuscita a sopperire a queste rarissime situazioni queste rarissime sbavature con qualche gol in più io penso che alla fine si debba guardare sempre in maniera positiva cioè rimane un vantaggio ampio hai fatto la partita hai fatto la partita perché il napoli non mi sembra che sia riuscito adesso ho letto delle cose mirabolanti scritte il giorno dopo su il napoli che sta ripartendo eccetera a me non so walter il napoli non mi ha impressionato ma neanche un pochino onestamente se lo comparo al napoli dell'anno scorso sicuramente meglio rispetto a quello che abbiamo battuto no in supercoppa chiaro beh sì quella partita diciamo che era stata abbastanza senso unico walter perché ma lo vuol che vuol che vuol che vuol che sorry my bad arrivo da te e ti chiedo hai visto forse un po di frenesi all'inizio non c'è stata forse quella pazienza nel nel creare dal palleggio il tuo punto di vista su questo pareggio sicuramente chiaramente mi piace molto l'ottica positiva di roberto scarpini voglio anche il tuo parere da ex giocatore allenatore nel calcio nel calcio ci sono dei periodi in cui vinci le partite e va tutto bene quindi anche le cose negative passano in secondo ordine e a volte poi invece succedono che le partite non vanno nella direzione come credi e allora si comincia a parlare di stanchezza si comincia a parlare di qualcosa d'altro viene sempre giudicato in base al risultato in realtà c'è da tenere presente che questo il primo pareggio se non sbaglio del giro di ritorno dopo una serie infinita di partite vinte e la sconfitta di madrid rientra in un contesto dove prima o poi una partita la puoi anche perdere nel senso non esiste cioè è difficile che tu giochi 50 50 partite all'anno 55 quelle che sono le vinci tutte giocando stra bene e con tutti gli episodi come diceva scarpini prima che sono dalla tua parte due risultati non in linea con quello che era prima ma ritengo che tutto sommato a madrid andare in vantaggio e magari lì probabilmente è subentrato una sorta di adesso non ci fanno gol cioè è successo anche a noi è successo tante volte per esempio anche quando abbiamo giocato i mondiali del 90 che eravamo imbattuti da 11 partite siamo andati in vantaggio 1 a 0 e pensavamo di non prendere gol fino alla fine queste queste sono cose sono cose strane che entrano dentro nella mentalità di una squadra ma come diceva scarpini ampio vantaggio possibilità di vincere lo scudetto con la seconda stella e andare avanti per la per la strada che è stata tracciata e soprattutto se andiamo a vedere i gol fatti i gol subiti nelle ultime due partite i gol fatti sono l'inter cioè sono giocate spettacolari ariose proprio che ti si aprono i polmoni che bello anche questo gol contro il napoli è partito dal portiere il gol di darmian parte da sommer c'è il giro palla arrivi a destra trovi chiuso veloce a un tocco vai a sinistra bastoni che va dentro la mette a rimorchio arriva darmian che è stato un gol da inter ma lo stesso gol fatto a madrid i gol subiti invece sono sempre come diceva walter piccole disattenzioni lo svirgolino episodici cioè episodici che poi sono gol anche quelli eh perché non è che però c'è una notevole differenza l'inter col napoli ha fatto le sue giocate poi il sul pallone di di marco dove lautaro arriva in anticipo con una giocata spettacolare lautaro tira la palla sta andando nell'angolo jj si butta proprio a peso morto e la palla gli prende il piede va in calcio d'angolo cioè queste sono le cose che diceva walter cioè quelle piccole sfumature che in altri casi magari girano in una maniera piuttosto che in un'altra ma la cifra del gioco c'è stata sempre spettacolo e qualche volta anche comunque bisogna dire il merito anche degli avversari perché meret è stato molto preciso in in diverse occasioni meret io dici varax felia che ha fatto otto assist mi dici il loro portiere è sbaglio abbiamo un portiere lo chiedo a walter adesso voglio dire mi volete dire che non è stato preciso in in alcune occasioni stavano parlando di meret ma walter però concentrati perché stavo già rispondendo perché ascoltami quando si parla del portiere no e si dice al portiere è stato il migliore in campo quindi vuol dire che la squadra ha giocato ha creato occasioni sì allora io rispondevo sempre quando giocavo io che anche il trap mi diceva e ma facevi due parate a partita sì certo però gli dicevo tra cavolo se non le facevo cioè avere un portiere bravo ti farà dire anche questo cioè fa la differenza perché crei delle occasioni e il portiere bravo si fa vedere se no metti un citofono e risparmi sull'ingaggio esatto se no ci metti ci metti un centrocampista visto che adesso tutti vogliono giocare col portiere coi piedi per esempio in questa partita meret ha fatto delle ottime parate non mi ricordo una parata di sommer ecco tanto per dirne una ma non per demerito bisogna tornare al 2023 sì non ci sono un intervento su baraschelia ma ma poi nient'altro però il napoli non ha giocato una partita brutta da un punto di vista tattico non sono stati male sono stati bene in campo certo il paragone con l'anno scorso è assolutamente devastante per questa squadra anche rispetto a quella giocata napoli l'anno scorso quella di campionato quella del girone d'andata cioè è un napoli che ha avuto il grande merito di tenerla sempre in gioco nel senso che non si è mai buttato in avanti la ricerca del pareggio scoprendosi lasciando ha sempre avuto le giuste distanze quindi in questo senso il napoli possiamo dire che è cresciuto ce la farà arrivare in champions league che è il loro sogno i giochi sono sono ancora aperti però è difficile però ci sono tante squadre molte hanno parecchi impegni e bisognerà valutare vedere perché ci sono ancora tanti punti a disposizione sicuramente un napoli che ha dovuto rinunciare ad osimen per un problema muscolare rimediato nella sfida contro il barcellone quindi un napoli meno profondo al suo posto raspadori che scendeva fino fino a metà campo per recuperare il pallone insomma un napoli un pochettino diverso rispetto magari a quello offensivo con victori in campo non sono state come sottolineato prima tu walter walter create tante tante occasioni però è pur sempre il napoli insomma non non dimentichiamo sì assolutamente ma c'è anche da dire un'altra cosa che nelle partite che che l'inter ha giocato fino adesso la cosa la cosa che è sempre balzata agli occhi è che le squadre avversarie non hanno mai avuto x numero di occasioni per far gol hanno avuto sempre una due pochine capito ed è questo e l'altra cosa che balza gli occhi nel vedere giocare l'inter è che se tu pensi al 3 5 2 come sistema di gioco al 5 3 2 come vuoi chiamarlo tu pensi a un sistema abbastanza difensivo in realtà trovi che fa gol bisec su assi di bastoni fa gol darmian su assi di bastoni ti ritrovi spesso e volentieri uno dei difensori centrali che a metà campo a far la mezzala il quinto di destra che diventa l'attaccante di marco che se volentieri da sinistra si può e si sposta a destra è una squadra che ha nelle caratteristiche dei giocatori l'occupazione degli spazi senza badare al ruolo e questo crea sicuramente un tourbillon di movimenti che associata alla bravura dell'allenatore alla tattica che viene imposta alla qualità dei giocatori fa sì che l'inter è prima in classifica con tanti punti di vantaggio e con tanto merito va detto poi che perché gli allenatori qua abbiamo un bravo allenatore che quando la panchina non guarda cosa sta facendo la fase offensiva si preoccupa di guardare alle spalle se vengono fatte le scalate giuste per mantenere le coperture l'equilibrio e in questo l'inter quando lui dice di marco taglia il campo e va bastoni si trova in area di rigore non è che poi sono tutti in avanti gli altri vanno a coprire e se guardi questo questo è proprio una serie di automatismi che ormai vengono spontanei ai movimenti in campo di questi giocatori e questo fa sì anche che è difficile vedere che subiamo delle ripartenze a campo aperto perché comunque se bastoni lì c'è qualcun altro al posto suo che ci viene automatico non deve urlare il mister da bordo campo scala copri eccetera è vero che voi allenatori guardate sempre quella parte sì le coperture preventive sono le cose più importanti perché ti consentono di restare in pressing offensivo di riconquistare palla alta e tutto quanto ma è la cosa più difficile da far da far organizzare perché mentre per la fase offensiva negli ultimi 30 metri ti puoi affidare anche alla qualità all'intuizione alla bravura di un giocatore nella fase difensiva di non possesso ci deve essere attenzione da parte di tutti perché basta che salta uno e salta tutto quindi servono giocatori intelligenti più che di dirigenti servono giocatori intelligenti e dirigenti ma soprattutto intelligenti che leggono le situazioni e che hanno la capacità di applicare quello che tu hai come idea di gioco in fase di non possesso allora la fase di possesso la puoi fare anche con i due attaccanti due che si inseriscono e questo il problema è organizzare gli altri in non possesso c'è sempre la famosa teoria che le partite durano 95 minuti ma se tu dividi per minuti di possesso palla ogni giocatore vai a scoprire che ogni giocatore non la tiene più di tre minuti la palla il problema è quello che fa negli altri 87 senza la palla ed è diviso tra fase di possesso fase di non possesso e anche quando c'è quelle situazioni di transizione che la palla non è di nessuno e lì la capacità questo vuol dire che io ancora oggi per i tre minuti di possesso potrei giocare perché tre minuti di autonomia li ho e tutto il resto che mi manca ma quella parte lì ancora potrei potrei farla guarda scarpe ti dico scarpe ti dico una cosa se tu provi ad analizzare la partita dell'inter col napoli e prendi i singoli giocatori e guardi quanti minuti hanno avuto il possesso palla scopri delle cose simpatiche si ce lo farò con molta attenzione voglio chiederti una cosa hai parlato delle parà vado un po fuori scaletta si può ma ci mancherebbe hai parlato delle poche occasioni che vengono concessa allora chiedo a te che eri portiere in un inter che vinceva e in cui stavi come ti diceva il trap e ma tefena got per tutta la partita ti ha fatto un tiro eccetera come si fa a rimanere iper concentrati per essere walter zenga o jan sommer in quel momento cioè capitalizzare il cento per cento delle tue qualità perché quando ti bombardano è facile se sempre lì se un polipo un polipone che muove mille mani ma quando sei tutto il giorno lì a parlare coi colombi coi piccioni come la si allena questa cosa allora due cose la prima la prima magari vado fuori scaletta io e nominato il trap che appena compiuto 85 anni quindi tanti auguri al trap giusto questo ci magherebbe la seconda è che io mi concentravo sul pallone anche se era lontano e ti posso garantire e ti posso garantire che quando finivano le partite e noi giocavamo di pomeriggio spesso e volentieri io la sera facevo fatica a dormire dalla stanchezza mentale che avevo il ruolo del portiere non è così semplice come sembra è proprio un ruolo di concentrazione massima di attenzione massima allora io ti posso misurare la tua forma fisica attraverso i test ti posso misurare attraverso il peso le corse tutto quanto è misurabile l'unica cosa che non è misurabile l'attenzione mentale l'unica cosa che non è misurabile la concentrazione che ogni giocatore mette durante la partita ma mentre un giocatore di movimento fa usa la fa usa la mente anche correndo e quindi fa un certo tipo di sforzo fisico il portiere è quello che mentalmente è più impegnato di tutti proprio per quello che hai detto tu perché tocca tre quattro palloni a partita e quei tre quattro palloni devono essere trovati pronti ma soprattutto anche nella distribuzione del gioco deve essere attento se non vieni messo in condizioni sempre di toccare la palla e di giocarla poi diventa un problema mantenere un'elevata intensità di concentrazione per 90 e passa minuti è vero volevo tornare un attimo infatti adesso hanno utilizzano il portiere come fossero un giocatore di movimento in più proprio per tenerlo più concentrato così si sente un po più parte anche perché se vai a lecce non ci sono i piccioni che ci sono a san sir a roma ci sono i gabbiani che ti fanno compagnia sei lì se no è lunga è lunga è lunga è lunga inverno fa freddo inverno fa freddo e devono continuare a fare gli esercizi movimenti perché stai a freddo mezzo nudo con una magliettina sottile sottile lui giocava con le maglie di lana tripla lana quindi insomma stava a caldo ma adesso è cambiato tutto vi riporto all'ordine e volevo tornare al discorso che stavamo facendo prima sulla fase difensiva e parlare di lautaro che è vero si è magari visto poco a parte che ricordo ancora ieri un controllo che ha fatto che veramente da brivido ma non ha trovato il gol però tutto il lavoro che fa lui senza palla quanto è importante per questa inter non solo lui anche fanno gli attaccanti che fanno gli attaccanti che il valter partiamo con te nella nella tradizione calcistica la prima cosa che si dice che gli attaccanti devono essere i primi difensori quindi è una frase banalissima stra usata vecchia come me però è la realtà dei fatti sia i due attaccanti che ti ritardano l'azione che si posizionano bene che sono sempre in posizione a perfetta per far ripartire la squadra beh hai già risolto tanti problemi perché è importante infatti se tu guardi le le situazioni di gioco spesso e volentieri due attaccanti sono i primi che fanno partire l'azione o fanno le sponde per poi andare nella profondità questo forzando un po il tono vuol dire che se tu hai cristiano ronaldo in squadra la fase di non possesso non la fai in dieci ma la fai in 9 che lui proprio non non aiuta mai da quel punto di vista quindi invece avere dieci che fanno la fase difensiva è un enorme enorme scarpe però scusa se ti interrompo è vero è vero che magari un giocatore come cristiano non fa la fase difensiva come messi magari la fa in una certa maniera e nei solo 9 in fase difensiva però gli altri come minimo si devono fermare in due per per stare con lui quindi sei sempre in vantaggio è vero anche questo tornando prendo il punto e porto a casa qui esatto questo è un duello che non so alla fine chi chi avrà la meglio tornando al gol lo abbiamo visto prima nelle immagini darmian un giocatore sempre costante il giocatore che forse tutti potrebbero avere e un inter che ha costruito molto sulla catena di sinistra con bastoni a fornire l'ennesimo assist ormai lo chiamo l'assist man perché tra il lancio lungo di 60 metri che taglia il campo perché lui da lì da mancino è perfetto per l'inserimento di barella di frattesi abbiamo fatto dei gol con la verticale bastoni barella ieri la provata con frattesi è arrivata lunga di un baffo perché davide era già partito ma al di là del piede buono devi avere un po' quella visione anche di capire gli spazi e farti trovare al momento giusto infatti se ci fai caso ultimamente alcuni allenatori un pochettino più attenti cercano di non lasciare mai bastoni a campo aperto in grado di poter calciare cercano sempre di contrastarlo per costringerlo a giocare esterno all'indietro ma non a far la battuta lunga perché perché quando diventa un'arma che applichi con cui fai gol con cui crei dei pericoli un bravo allenatore che guarda le partite con il suo staff di analisti va a vedere e dice palla bastoni attacchiamolo sempre maniera tale che non abbia libertà di controllare e battere lungo me voglio andare avanti sulla scaletta perché c'è quella parte dei nazionali che ho cento curiosità per Walter. Appena esco un attimo io dagli schemi Walter mi rimprovera cioè uscite voi dagli schemi tutto bene lo faccio io che sono la conduttrice mi rimproveri va bene va bene vogliamo parlare di nazionale? Sì vogliamo parlare di nazionale Walter perché chiaramente adesso arriva la pausa lo chiedo a te che sei stato giocatore però voglio sapere anche il tuo parere d'allenatore come si gestisce questo stop nel senso è uno stop sì forse più dal punto di vista mentale perché stacchi perché comunque chi è impegnato in nazionale avanti a giocare e poi deve viaggiare e poi deve ritornare ed essere pronto per il campionato però è contro. Ma ci sono due Walter dobbiamo chiedergli prima la parte d'allenatore divisa in due parti cioè partivi e andavi in nazionale come vivi in quel momento. Secondo quando è arrivato alla fine non era più in nazionale cosa fai in quei giorni che rimani in sei sette a lavorare poi dopo passiamo alla parte allenatore. La parte da allenatore è quella di gestire eventuali recuperi in base ai giocatori che hai faccio un esempio adesso noi qui abbiamo tre giocatori in nazionale abbiamo dato sia la pausa anche qua ovviamente abbiamo dato tre giorni liberi abbiamo ripreso ieri facciamo allenamento fino a venerdì fino a venerdì poi un giorno libero e poi cinque giorni di preparazione per la partita. In questa prima parte della settimana abbiamo valutato insieme allo staff la condizione atletica dei giocatori tipo faccio un esempio Iniesta che ha 39 anni che ha giocato sempre 90 quasi 90 minuti farà un lavoro differenziato chi ha giocato di meno farà un altro tipo di lavoro quindi in base a quello che ogni allenatore ha e vede come gestisce la squadra poi fa il programma degli allenamenti fai non è un richiamo della preparazione ma è una rigenera una rigenerazione atletica attraverso il non vuol dire il riposo ma attraverso una qualità del lavoro da giocatore se va in nazionale ok ti sei già risposto da solo sei già in nazionale devi essere concentrato per la partita rappresenti la tua nazione non puoi far brutte figure quindi il tuo livello di attenzione sarà sempre alto ed elevato se sei a casa se sei a casa è differente perché rientri in quel gruppo di giocatori che ti ho detto prima quindi in zaghi avrà a a disposizione x numero di giocatori e farà delle tabelle di allenamento in base a quelli che stanno a casa e ha visto che con una risposta risposto a tutte le nostre domande allenatore vuole partire da giocatore arrivare allenatore lui ha già detto ma perché sono punti di vista differente è molto interessante pensare ai tuoi ragazzi dall'altra pensi a te stesso è logico che magari ti annoi un po perché a volte va beh ci sono i ragazzini fai con la primavera la squadra ma a volte fai fatica anche a fare una partitella 11 contro 11 sì 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 poi anche le under 19 hanno i ragazzi in nazionale perché poi ci sono gli italiani ci sono gli stranieri quindi si svuotano anche lì quindi diventa un pochettino più complicato se sei in un grande squadra in un grande team se sei in una piccola squadra invece magari vanno via 4 5 nazionali diventa un pochettino più agevole di sempre più semplice anche gestire una volta tornati a casa i vari li hanno inventato il calcio tennis per quello e quando ne hanno pochi fanno dei tornei tu ami far fare tornei ai tuoi giocatori cioè la sfida che vuoi calciatori piace tanto allora ti faccio ti faccio un piccolo esempio se faccio se il preparatore dell'atletico fa delle ripetute diciamo sui 20 metri tanto per dire tanto per dare dei numeri e lo fai a secco hai un risultato se ci metti un pallone in mezzo e due giocatori chi arriva prima hai un altro risultato quindi la competizione è sempre interessante ieri abbiamo fatto un allenamento di un'ora perché adesso ci alleniamo alle 10 di sera perché qua è ramadan quindi ci alleniamo alle 10 di sera giochiamo alle 10 di sera io abbiamo fatto un tipo di allenamento che è stato discreto dopo tre giorni di riposo la partitina finale è stata da 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 finale del torneo di quartiere nel senso perché avevamo messo un qualcosa è finita la partita i ragazzi si sono guardati hanno detto domani facciamo la rivincita quindi quindi c'è anche questa cosa che che inserisci per dare un po di competitività è certo calciatori sono come roger rabbit paparapappa basta mettergli la musichina quindi trovare la musichina e loro partono perché è bello il bello del calcio poi è questo che si dice che ci sono dei grandi calciatori del passato che non volevano perdere neanche in amichevole e neanche nella partitina che rosicavano se finivano da uno di questi che non voleva mai perdere ti sfatto un mito guarda ma veramente allora nelle partite di fine allenamento i vari miei compagni di squadra da ferri a bergo mio compagnia non mi sceglievano mai mi mandavano sempre dentro perché io le partitine le ero un disastro le perdevo tutte no non l'avrei mai detto robin non c'erano i piccioni quindi non aveva così dialogare lì ecco perché quindi quindi ero 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 out out completo l'italia in questa pausa volerà negli stati uniti tu c'hai giocato interessante un po anche pensare che adesso in america sembra che il calcio europeo sia diventando sempre più di moda la percepisce anche tu questa tendenza ma non solo non solo in america io sono stato sette mesi in indonesia vivo negli emirati arabi nei paesi del golfo da 14 anni e i campionati europei sono sempre quelli più seguiti più visti in primis c'è la premier non te lo nascondo poi c'è la spanish league e poi c'è la serie a però le grandi squadre per esempio l'inter ha un club in indonesia che è assi e forti enorme e quindi e quindi vengono seguite ora poi l'utilità di queste trasferte in america ecco lì lì vedi scarpe lì il problema dell'allenatore e rientra nel momento in cui i giocatori ti rientrano la lunga trasferta del genere ma questo vale anche per per gli altri giocatori sudamericani e tutto quanto devi vedere quando ritornano come ritornano quante partite hanno giocato il minutaggio che hanno fatto cioè ci sono tanti tanti aspetti da tenere in considerazione c'è anche una differenza tu sai che negli ultimi anni abbiamo avuto sempre tanti sudamericani no argentini uruguayani eccetera e la differenza è che quei ragazzi ormai si erano abituati a viaggiare cioè per loro quel viaggio di ritorno che poi col fuso orario tu rimane rimbambito per quattro giorni allora gli fasso l'etico scusa scarpe non è che viaggiano nella stinva o in economia no capito va bene viaggiano un tantino più comodi magari rispetto a come viaggerei io viaggiano comodi va bene ci hanno letto possono riposare però a volte arrivano il venerdì e giocavano il sabato diverso sarà per la nostra nazionale che invece sono abituati a fare trasferte di corto raggio quindi giochi qua in europa invece avranno un rientro e avranno la necessità di dover smaltire il fuso e poi scendere subito in campo però sono professionisti sanno sono aiutati sono ragazzi sono aiutati dallo staff medico a saper gestire questi momenti con i giusti con i giusti consigli ma sapete quando è stata l'ultima volta della nazionale in america non ero nato spero che non sia stata la mia ultima partita in america ah guarda segniamoci questo momento questo minutaggio no dai sto scherzando era nel 2005 la prima nel 76 l'ultima nel nel 2005 anno prima è perché io ho giocato l'ultima partita nazionale tra parentesi uno allora se tu non credi ai ai il karma al destino tutte queste cose qua la mia ultima partita nazionale l'ho giocata italia irlanda 2 a 0 a boston che fece gol signori e costa curta su rigore e al allo stadio del new england revolution e poi io andai a giocare esattamente a boston nel new england revolution ma cos'era la us cup ma t'hanno visto la us cup abbiamo giocato a abbiamo fatto 0 a 0 col portogallo a stanford 2 a 0 con l'irlanda a a boston e poi abbiamo giocato l'ultima partita a chicago che giocò marchegiani al posto io contro gli stati uniti costa curta che segna sul rigore lui era bravo sui rigori sì 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 billy era bravo sui rigori una battuta questa io guardavo l'espressione di walter perché vi continuate a punzecchiare però walter per la tua felicità perché so che nella prima puntata a questo momento ti è piaciuto molto è arrivato il momento amar cord o dobbiamo fare come sempre un tuffo nel passato facciamo un tuffo in bianco e nero è a colori no no è a colori facciamo un tuffo detto a un portiere proprio preciso ecco mi fai morire beh non so se puoi immaginarti in realtà quale sarà il momento che andremo ad analizzare talmente tanti no però abbiamo parlato di inter napoli quindi andiamo nel 1989 la partita dello scudetto dei record scusami ma qui dovevamo per forza menzionare quest'annata questa partita e la vogliamo rivivere con te sei stato formidabile formidabile pronti pronti via vorrei vorrei che riguardate quell'azione lì che ha fatto careca maradona e mamma mia perché cioè se tu guardi quell'azione lì la fai rivedere e dici cavolo cioè la palla la palla andava a 3.000 all'ora ti posso garantire ti crediamo avevano una qualità imbarazzante loro ma noi abbiamo vinto il campionato a qui il campionato era due punti l'abbiamo vinto con quattro partite d'anticipo c'era la trentesima giornata sì ma era il campionato a due punti e questo gol di lottar resterà per sempre è questa storia queste storie riguarda nicolino che va a litigare per prendere il pallone si voleva fare il terzo e poi qua fai per gli spogliatoi per esempio guarda la gente lì fuori dalla finestra sì quello era una roba incredibile che vecchio prima dei lavori adesso il spogliatoio è quattro volte questo erano piccolissimi piccolissimi poi avevano la finestrella che dava verso l'esterno e i tifosi si affacciavano bussavano perché volevano salutare il giocatore assurdo il pullman il pullman ti lasciava fuori passavi in mezzo alla gente eppure sono passati così pochi anni sì sto scherzando ragazzi permettere una volta lo faccio io robbie raccontaci come l'hai vissuto tu io sono un po invidiosa perché chiaramente ma quando vinci un campionato si sommano tutte le tutti i timori della vigilia no cioè arrivi a quella partita che sai che può essere quella chiave e quindi hai tutto il nervosismo con tutte le ritualità eccola qua l'azione di prima guardate colpo di tacco palla dentro quello lì poi grande parata e poi stava la grande parata e poi quel portiere li ho si doveva tenerla in presa più che devi alla però e poi e poi dopo le emozioni saltano nel momento in cui arrivi al trionfo a me è capitato di raccontarle di viverle parecchie volte nel corso della mia vita da tifoso dell'inter o da commentatore dell'inter e sono sempre una più bella dell'altra cioè vincere non è sempre una cosa nuova ogni volta anche se hai già vinto anche il periodo in cui abbiamo fatto il filotto di campionati che poi vincevi la coppa italia poi vincevi la supercoppa l'avversario era sempre la roma ma non ti stanchi mai è sempre bello e ha sempre qualcosa in più rispetto alla volta precedente ma visto che sei appassionato di musica Roby che canzone ti fa venire in mente quello scudetto quello scudetto di e bisognerebbe tornare una canzone che non mi viene in mente di quegli anni qualche che canzoni c'erano in quegli anni lì cosa ascoltavi in spogliatoio io 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 ho sempre musica house ma non c'era la house negli anni ottanta in due non mi sapete tirare fuori un pezzo cioè ci sarà un pezzo che vi fa tornare in mente quella vittoria quell'anno io ho una libreria musicale relativa alla mia vita no 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 come musica no ma ti dico che io ti dico la musica da house o discoteca queste cose qua perché per esempio quando quando giocano in quegli anni le partite di europa e andavamo a madrid o queste cose che andavamo a vedere il campo io entravo in campo con le cuffie a tutto volume non sentivo niente cioè era prima della partita ovviamente no ti dico le it di quegli anni di quell'anno dimmi c'era la lambada no no non lo vedo viva la mamma di ben nato direi di no phil collins è nada in paradise va bene like a prayer di madonna anche poi c'era ti pretendo dirà c'era michael jackson sì sì c'era michael jackson c'era madonna c'era prince va bene va bene c'erano i grandi gruppi c'erano i grandi gruppi rock anche va bene andiamo avanti se invece dovessi scattare una fotografia di momento un po privato di festeggiamenti in spogliatoio con i tuoi compagni chiedigli dopo lo spogliatoio era pubblico c'erano le telecamere hai ragione chiedigli dopo lo spogliatoio parliamo di movimenti privati i festeggiamenti raccontaci un po non so neanche a che ora sono tornato a casa quella sera mi sono perso in giro ma la foto che ho di quell'anno e di quello scudetto è il pullman che rientra dalla trasferta di bologna dopo il 6 a 0 non mi chiedere non mi chiedere perché ho quell'immagine lì ma vedere tutta l'autostrada il pullman in mezzo a tutte le macchine con le bandiere dell'inter fuori era una roba cioè c'era lì veramente ho quell'immagine lì e mi resterà con egidio non sei mai banale mai banale no sai cosa è successo quel giorno lì prego 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 vai con egidio no con egidio con egidio che tirava dei moccoli perché chiaramente le macchine non ti facevano andare siamo andati così ma era era stupendo quel giorno lì sì c'è uno sciopero improvviso dei treni o qualcosa e praticamente c'erano tutti i ragazzi che avevano il biglietto per andare a bologna che non sapevano come andare infatti io mi sono trovato al casello di meleniano della milano bologna e ne ho caricati tre o quattro quelli che mi stavano in macchina perché erano arrivati lì cercando di fare autostop per andare a bologna perché non c'era più il treno pensate quei ragazzi caricati da quelli che invece l'avevano saputo prima erano andati in macchina quindi c'era una quantità di auto andata a bologna per quella parita poi vinta di misura una parita sofferta no te lo ricordi sì sì incredibile quindi ha ragione nel dire c'è stato un ritorno iper colorato io non mi ricordavo il fatto della dello sciopero di queste cose qua ma era impressionante come come ci fossero sembrava quasi che ci fossero tutto lo stadio di bologna in macchina perché tornava milano che bello che emozione roby ma tu dopo una telecronica del genere ti senti un po come di averla giocata anche tu c'è un po quella un pochino sì però poi mi piace raccontare quindi io sono solo l'espressione vocale del sentimento parlo anche della stanchezza dell'adrenalina ci sei come loro che non dormi dopo ogni partita a livello dell'adrenalina non dico a livello di giocatori però faccio fatica a prender sonno cioè c'è tutto uguale sì 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 ci sta ci sta perché comunque la la vivi con intensità con passione ma come fanno i tifosi e anche tifosi io tanti amici che dopo una partita fa fatica a prender sonno devono comunque far passare un po di tempo prima di quindi è una cosa bella quando vado allo stadio che non lavoro osservo tutti i tifosi ci sono tante tipologie di tifosi quello più esagerato sono sempre quelli che mi fanno sorrire di più a quelli che si vede che soffrono internamente che non riescono a tirare fuori tutte le emozioni però sicuramente queste sono le immagini dello sport che ci portiamo dentro e poi sono divertenti i tifosi dell'inter ma di qualsiasi squadra però racconto un aneddoto accaduto a bologna inter dei miei amici due papà con due figli oli piccoli vanno e li portano a vivere una trasferta quindi una bella esperienza però quando tu sei in trasferta non è che puoi in tribuna esultare come se fosse san siro infatti subito un'occasione da gol uno di questi si alza e davanti un signore un po anziano bolognese in maniera molto elegante e si gira gli dice ricordatevi che siete a bologna al gol di di bissec sono rimasti così immobili frizzati golevano dentro esultavano dentro ma non hanno fatto una piega con tutti gli altri che li guardavano dice mo ti aspetto al varco voglio vedere cosa fai fermi fermi bene con questo ricordo di robbie che solo tu puoi raccontare così quasi facendoci sentire lì in tribuna con loro io vi volevo ringraziare è stata una bellissima puntata è sempre bello rivivere i vostri ricordi ricordi nero azzurri poterli raccontare ai nostri tifosi spero di vedervi presto ma ascolta valter adesso che c'è il ramadan che fai gli allenamenti quando di solito ceni quando ceni dopo l'allenamento e allora prima io sai che sono qua con ben in carbone no allora prima dell'allenamento verso le allora quando loro il sole cala c'è l'iftar che è praticamente una sorta di breakfast un po più lungo ok e poi dopo la mezzanotte c'è il suhur che è una specie di cena quindi praticamente io e ben in cosa facciamo mangiamo qualcosa leggero verso le sette se andiamo al campo prepariamo l'allenamento alle 10 iniziamo finiamo 11 e mezza 12 meno un quarto ora che torniamo in albergo dove viviamo è tutto e mezzanotte e mezzo e abbiamo un altro light dinner però però prima delle tre non vai mai a dormire 3 3 e mezza e quando mi chiedono come i giocatori sopportano questo periodo per loro molto importante io rispondo sempre alla stessa maniera loro sono abituati sono io che non sono abituato a tirare questi ritmi quindi la carbonara te la fai alle 13 no neanche no no ancora è atleta sto giro è un atleta sto giro no sto giro no perché sennò dopo diventa pesante va bene bene grazie valter zenga grazie roberto scarpini grazie ai tifosi che ci hanno seguito continuate restate collegati perché lo sapete le novità sono sempre tantissime quindi seguiteci sui social su inter tv ovunque a presto ciao 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 ciao